Precaricate la stampante HP con carta o supporti che si adattano al meglio alle vostre esigenze di stampa di tutti i giorni. Per stampanti con caricamento posteriore, sollevare il vassoio di alimentazione per raggiungere la sua posizione di blocco. Far scorrere la guida della larghezza della carta verso l'esterno per quanto possibile. Inserire una risma di carta comune bianca e caricarla nel vassoio di alimentazione con il lato corto in basso. Fare scorrere la guida di larghezza della carta verso l'interno finché si appoggia sul margine della carta senza piegarla. Per stampanti a caricamento frontale, estrarre il vassoio di alimentazione usando il cursore di ridimensionamento se la stampante in uso ne ha uno. Fare scorrere il vassoio foto se la stampante in uso ne ha uno. Estrarre la guida della larghezza della carta per quanto possibile. Estendere il vassoio della carta legal o di altri formati carta che eccedono la lunghezza del vassoio della carta. Inserire una risma di carta comune bianca e caricarla nel vassoio di alimentazione con il lato corto in avanti. Fare scorrere le guide di larghezza della carta verso l'interno finché non si posano sul margine della carta senza piegarla. Reinserire il vassoio di alimentazione nella stampante. Qualsiasi supporto di grandi dimensioni si estende oltre il vassoio. Se viene richiesto nel pannello di controllo della stampante, selezionare Modifica per cambiare il formato carta e digitarne uno che corrisponda a ciò che è stato caricato nella stampante. Se le impostazioni elencate corrispondono alla carta caricata, toccare OK. Aprire il documento da stampare. Regolare le impostazioni del driver di stampa per ottimizzare la stampa sulla carta o sul supporto caricato nella stampante. Regolare le impostazioni del suo filo. Regolare le impostazioni del suo filo la carta il corrispondono alla carta senza piegarla. Grazie a tutti